Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941, siamo nel punto preciso in cui ci siamo lasciati ieri, mi mangio un'altra po' di carne zombesca per stare belli tranquilli e niente signori, dopo l'episodio di ieri, il diciassettesimo, siamo pronti a partire con il diciottesimo, siamo nello stesso punto di ieri come vi dicevo e ci possiamo liberare di qualcosa, qui c'è una piccola pozzetta di lava in cui io direi, potremmo anche portarcela a casa la pozzetta di lava volendo volendo la pozzetta di lava ce la potremmo portare anche a casa per fare una sorta di incenditore, non sarebbe male come cosa guardate là c'è i creeper che ci aspettano come se non ci fossero domani, allora noi vogliamo un attimino continuare siamo stati fortunatissimi, abbiamo beccato 5 diamanti nel giro di pochissimo, avessimo avuto un piccone con fortuna signori sarebbe stata la svolta, piccone con fortuna sarebbe stata la svolta, quasi può salire, si, c'è la lava, è rischioso, si lo stiamo per fare veramente, si, questa no però, lo stiamo per fare veramente, si, perché secondo me c'è qualche diamantozzo pure qua sopra può essere, mi sento fortunato signori, mi sento fortunato, questa caverna mi ha dato gioia, mi ha dato gioia allora, tra l'altro mi si stanno anche distruggendo gli strumenti di ferro, io chiuderei questo buco che non serve a niente quest'acqua è estremamente fastidiosa, ok, occhio sempre se cade qualcosa dall'alto, illuminiamo tutto illuminiamo tutto e capiamo bene un attimino mi sembra allora che altri diamanti almeno qui sopra non ce n'è qui sopra non ce ne stanno, bella questa colonna centrale c'è del ferro che però stiamo ignorando palesemente e va bene perché direi che a ferro siamo messi anche bene non massimo poi me lo vedo di recuperare un poco off camera magari a fine di questo video, se ripasseremo da qui vedrò di recuperarlo un pochetto allora, noi possiamo andare in quella direzione di là anche se c'è quello scheletro che non mi sta per nulla simpatico soprattutto perché siamo vicino alla lava e questo non è mai buono affrontare uno scontro con uno scheletro vicino alla lava non è mai per niente una bella idea allora, qui siamo tornati dove eravamo prima, ok vediamo tutto da un altro punto di vista, qua sopra vediamo cosa interessante, allora da quel lato non ci andiamo a fare proprio nulla non vedo diamanti, non vedo nulla, nulla di interessante quindi possiamo provare ad andare qui lo scheletro è magicamente sparito, quindi io direi di mettere una torcia qui e passare velocemente questa fonte d'acqua che potrebbe essere un ostacolo brutto torniamo qui sopra, ok, là c'è lo scheletro, qua ci sta il creeper io direi illuminiamo qui, spada alla mano, affrontiamo il creeper che sicuramente dovrà per forza romperci le scatole se non sbaglio ci sta arrivando anche lo scheletro ok, il creeper è fatto fuori lo scheletro lo affrontiamo subito liscio un altro diamante signori, un altro diamante grande scheletro, ti voglio bene, guarda ti lascerai in vita solo perché mi hai fatto trovare un altro diamante bellissima signori ma che fortuna stiamo avendo mannaggia a me che non ho un piccone con fortuna veramente è solo uno? uno, uno, no, sono due signori sono tre, no, sono due, ok sono due, sono due bello così, bello così apriamo per magari c'è qualche speranza no, ricordiamo che noi il piccone di diamante già ce l'abbiamo quindi possiamo ambire già a farci anche la spada e a farci anche una mini armatura qualche pezzotto di armatura già ce lo possiamo fare allora aspettate, io però voglio un attimino continuiamo a mangiarci sta carne zomba zombesca, così ce la diamo dall'inventario e ci fa fare, ci fa recuperare la vita e i cuori senza dover per forza consumare carne ho finito le torce, gravissimo, gravissimo signori siamo esposti come niente, come mai siamo in un punto proprio esposto e siamo senza torce abbiamo pure finito gli stickettini quindi facciamo gli stickettini al volo abbiamo un inventario pieno di tanta roba interessante signori abbiamo un inventario pieno di tanta roba interessante ok, calma, 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 calma continuiamo l'esplorazione mettiamo la torcina qui sopra, così illuminiamo anche qui mangiamo ancora la carne zombesca le facciamo fuori e non se ne parla più qui sotto c'è qualche diamante così, per puro caso magari sotto l'acqua, nascosto, che non può farsi vedere no, direi che è un po' inutile salire questa fonte d'acqua però vediamo cosa c'è da questa parte vediamo cosa c'è da questa parte siamo stati fortunatissimi signori abbiamo sette diamanti e un creeper alle spalle mannaggia a te, a chi non te lo dice pure l'armatura è sempre sana? sì, da dove è arrivato sto creeper stealth? praticamente mannaggia a lui, mannaggia mettiamo la torcina qui signori facciamo luce, facciamo luce abbiamo bisogno di luce, vedete ci attaccano alle spalle come se non ci fossero domani mannaggia a loro, mannaggia a loro dai, ultimo pezzo di carne di carne marcia recuperiamo questo ferro giusto perché era qui sperduto possiamo buttare qualcosa e buttare questo che non ci serve e ci allontaniamo velocemente ok, quindi qui niente di interessante c'è quella fonte d'acqua di là che scende dall'uscita quindi in teoria di là noi possiamo uscire è buono a sapersi buono a sapersi ma non è il momento di uscire signori no, 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 no dobbiamo continuare la nostra esplorazione questa c'è il geode qua sotto allora signori io me li prendo mi stanno perseguitando questo geode mi sta perseguitando e io me lo piglio signori ci possiamo fare qualcosa? penso di no sinceramente penso di no anche perché se non sbaglio ci vuole la gemma ci vuole quella ma questa se la piglio così si rompe no, non si è rotta non si è rotta buono buono allora me ne piglio un'altra scusami non so che cazzo loro servono mi sa che questa però si rompe sì, questa non è abbastanza abbastanza cresciuta però mi sono preso qualche blocco di diametista scusatemi basalto liscio non me ne faccio niente il basalto liscio basalto liscio te lo tieni te e anche sto coso bianco mi sa che ho preso sì calcite la calcite non me ne faccio manco nulla a meno che non è qualcosa che mi può servire ma non penso proprio quindi usciamo nuovamente di qua abbiamo preso qualche blocchetto ne pigliamo qualche altro ma sì dai possiamo fare la stanza dell'incantesina possiamo fare con tutte queste cose e non è male come cosa dai dai recuperiamo recuperiamo signori che bel rumore quando la si rompe fa un rumore rilassante sì ok continuiamo la nostra esplorazione signori non ricordo bene dov'è che dovevo andare forse di là voglio liberarmi un attimo di tutto quello che non mi serve quindi il basalto liscio non mi serve la calcite la possiamo levare questa pure era la selce quella che stavamo levando non era la calcite e basta per ora va bene così mangiamoci un pezzo di carne signori perché abbiamo finito la carne marcia damose così abbiamo messo questa torcia lì che non serve a nulla ok proviamo a salire vediamo se riusciamo a trovare qualche altra cosa allora io già sono soddisfatto così signori questa la redstone la recuperiamo per un discorso di esperienza siamo a livello 18 signori possiamo iniziare a fare gli incantesimi possiamo decisamente iniziare a fare gli incantesimi recupera 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 questa è tutta esperienza gratuita esperienza gratuita dai 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 ok proviamo ad andare di qua ma mi sa che non ci sta più nulla signori mi sa che abbiamo portato a termine l'esplorazione di una gran bella caverna mi sa di si mi sa di si perché mi sa che di qua non si va da nessun'altra parte si stiamo facendo il giro 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 tondo giro giro tondo abbiamo fatto si si decisamente si l'unica parte che mi manca da esplorare è quella zona di là da c'è dell'oro ma lo lasciamo lì dov'è passiamo di qua che c'è però il lago di lava ok quindi facciamo il giro da questa parte e passiamo nuovamente questa fonte d'acqua passiamo nuovamente questa fonte d'acqua ok scendiamo di qui qui c'è la lava che abbiamo visto prima sopra non c'era nulla torniamo indietro non sento più neanche tanti mostri perché abbiamo illuminato tutto praticamente non c'è più una parte buia di questa caverna ed è buono così è giusto così metti anche una torcina lì qua continua la cosa no perfetto quindi una torcina così randomica e niente signori va bene così va bene così altra esplorazione che comunque abbiamo trovato un altro diamantozzo quindi vorrei dire vorrei dire abbiamo trovato un altro diamantozzo di qua non c'è nulla e va bene signori va bene allora io direi io direi torno su in maniera in off camera mi recupero qualche altra risorsa che comunque un altro po' di ferro possiamo portare a casa recupero un po' di altre risorse che ho lasciato in giro dopodiché torniamo su e secondo me potremmo anche tornarcene a casa signori secondo me potremmo anche tornarcene a casa non abbiamo trovato il villaggio che cercavamo però però abbiamo trovato tante cose interessanti signori tanti materiali importanti tanti materiali importanti quindi sì sì torno recupero velocemente tutto questo materiale che abbiamo lasciato dietro e e poi ci vediamo quando stiamo rifacendo la strada per casa signori ok signori ho recuperato un altro po' di risorse ora sono andato dove c'era quella cascata che in teoria dovrebbe portarci verso l'alto per cercare di uscire anche se non vorrei aia 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 maledetto 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 che non sei altro maledetto che non sei altro dove sei finito là maledetto che non sei altro devi morire male devi morire male ecco finisci di tenere la strada nell'acqua e non rompere più le scatole riesco a ammazzarti no perché lui riesce a colpirmi mannaggia a lui intanto signori guardate non volendo io volevo andarmene abbiamo trovato un'altra zona cioè io io non so assolutamente come siamo combinati abbiamo trovato le stallattiti abbiamo trovato le stallattiti e questa è importantissima sapete perché è importantissima perché possiamo farci la farm di lava guardate che spettacolo questa ci dobbiamo portare pure a casa eh ma a questo punto ci serviva anche la ci serviva la lava signori ci serviva decisamente la lava ci serviva decisamente la lava riesco a portare a casa questi no cosa posso rinunciare bella domanda queste possiamo rinunciare sicuramente e poi possiamo anche rinunciare alle frecce signori rinunciamo alle frecce perché voglio le stallattiti voglio le stallattiti guardate che spettacolo mamma mia che mondo spettacolare che mondo spettacolare mi devi dare le stallattiti vabbè che appunto non ne potremo fare tantissime là c'è un creeper ok ovviamente la farm di lava non la potremo fare vicino a casa nostra perché casa nostra è tutto legno quindi diciamo che non è consigliabile non è consigliabile vediamo se il creeper mi riesce a far fare la cosa con calma la inquadratura guardate che spettacolo spettacolare signori spettacolo abbiamo la caverna con le stallattiti anche di tutto e di più di tutto e di più queste tre giorni di avventura in caverna sono stati bellissimi sono stati di una bellezza assurda tra l'altro questi sentimenti potremmo anche attaccare sotto casa eccolo eccolo che si è presentato eccolo ti devi levare no non ti vuole levare volevo morire male e mori male allora che ti devo dire dai così io non so se mi serve anche la base non so se mi serve anche la base per attaccare le stallattiti ma noi ce la portiamo a casa abbiamo fatto lo spazio l'inventario e ce la portiamo a casa quante le abbiamo prese dove stanno otto va bene otto e sette blocchi dammene un altro perfetto ok diciamo che otto mi bastano perché signori con questi io posso fare la farm di lava direi a che ti serve buttiamo l'acqua buttiamo l'acqua e prendiamo un secchiello di lava lo faremo ovviamente nella parte giù di casa nostra perché se lo facciamo nella parte su se la facciamo nella parte su ci piglia fuoco tutta la casa la pislazzoli ce le prendiamo la pislazzoli ce le prendiamo perché questi ci servono oltre per l'esperienza anche per poi fare gli incantesimi quando un giorno riusciremo a poter fare gli incantesimi allora signori noi dobbiamo uscire da questa sorta di caverna allora il discorso è questo che noi potremmo provare a prendere una fonte d'acqua di queste di qua ma se per pura sfortuna qualche mob ci fa cadere di sotto noi siamo morti perché cadiamo da un'altezza improponibile ci interessa no lo faremo si lo facciamo si sono bravo io a tenere le fonti d'acqua no quindi rischiamo la morte si stiamo per rischiare pesantemente la morte blocchi di terra in mano cortesemente grazie blocco di terra in mano ok ok già un poco siamo saliti signori un poco siamo saliti e non è male come cosa un poco siamo saliti vogliamo continuare a provare a uscire no non ci penso proprio non ci penso assolutamente proprio questa arriva lì e si ferma e niente signori guardate faccio prima a fare uno scavo verso l'alto se no non manca tanto non manca tanto per salire su tra l'altro qua c'è il mare mi sa si abbiamo beccato il mare signori perfetto siamo no non abbiamo beccato il mare abbiamo beccato un'altra un'altra pozza stiamo salendo di pozze e pozze di pozze e pozze mamma mia qua continuo signori qua c'è un'altra caverna da esplorare ma di cosa stiamo parlando ma io non posso continuare a fare esplorazioni come se non ci fosse un domani non può essere il terzo video di esplorazioni signori cioè rendiamoci conto intanto tutto questo stiamo finendo il carbone abbiamo preso tanto di quel carbone che lo stiamo finendo di nuovo non possiamo fare un'altra esplorazione là ci sono ragni come se non ci fosse un domani e ragni potrebbe significare stringhe che potrebbe significare signori abbiamo sette diamanti no 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 sette diamanti abbiamo non no no non voglio rischiare non voglio rischiare mi dispiace mi dispiace ma non voglio rischiare non voglio rischiare me ne voglio tornare a casa me ne voglio tornare a casa in sicurezza in sicurezza decisamente sì decisamente di sì la vedo delle luci ma non capisco se sono luci di uscita oppure no allora passiamo di qua ok e torniamo a scavare verso l'alto signori mi dispiace mi prenderò le coordinate promesso questa caverna la vedremo a esplorare un'altra volta decisamente un'altra volta ma non oggi perché signori ci ho sette diamanti ci ho sette diamanti è un'armatura in ferro che secondo me è anche un po' aggiucata è un po' rovinata e quindi io direi decisamente di tornarcene tranquilli tranquilli a casa tranquilli abbiamo una marea di ferro una marea di ferro che questo cotto ci dà tanta di quell'esperienza che non ve lo sto neanche a dire ho sbagliato ne ho appestati due mannaggia ok e non ha senso non ha senso rischiare signori dai ci vediamo appena sono praticamente in direzione per casa signori non chiedetemi com'è possibile che noi eravamo andati da tutt'altra parte e stiamo tornando a casa completamente dal lato opposto cioè noi eravamo andati va bene eravamo andati in quella zona di là noi a fare l'esplosione stiamo tornando da quel lato di là quindi vedete di quanto ci siamo realmente allontanati da casa nostra impressionante impressionante comunque signori ce l'abbiamo fatta siamo tornati a casa dormiamo nel nostro bellettuccio mi sono preso le coordinate di quella grotta che non abbiamo non mi sono sentito di esplorare signori perché abbiamo un bottino troppo importante e nei prossimi video signori staremo belli tranquilli a casa nostra dormiamo se il gioco ci fa dormire non possiamo dormire mannaggia a te però signori dove stanno i miei diamanti datemi i miei diamanti ne abbiamo due signori e sette fanno nove diamanti nove diamanti non possiamo farci chissà che cosa però nove diamanti già ti danno più soddisfazione più benessere ecco ti fanno stare proprio bene ti fanno stare proprio bene detto questo signori io per questo video vi saluto qui abbiamo l'inventario che è pieno di roba ma sono stracontento l'hai cresciuto l'albero di betulla bene e signori nei prossimi video possiamo fare tante cose dobbiamo fare il mulino qui consigliato da anzi no mi sa che non lo facciamo con il mulino perché se faccio il mulino qui non siete più portate al nether lo dobbiamo fare da un'altra parte il mulino ora vediamo l'unica cosa che voglio vedere vediamo se siamo un attimino fortunati signori con queste due uova vediamo se riusciamo a portarci due polli a casa attenzione tentativo uno no tentativo due niente da fare su due manco stavolta manco un pollo va bene detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i sugerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video bella raga ciao ciao